Il primo piano Una vista spettacolare da questo posto Tutto frescato ancora Guardate che roba Andiamo a parlare piano perché abitano vicino Queste sono tutte le stanze dell'albergo Questo è un bagno È bellissimo Com'è rimasto ancora bello Guardate che roba Bello veramente Ogni stanza ha tipo un affresco Questa deve essere stata una delle stanze più belle Perché è luminosa Guardate che bello E' enorme questo posto E siamo sul primo piano Il corridoio immensi Queste tutte stanze Ogni stanza c'è un disegno Ogni stanza ha un disegno Stanza Però stanze con le parti comunicanti Si vede che hanno Non è rimasto tanto Di qua Qua sopra ci abitano Qua ci sono dei mobili Cercando di non farmi vedere C'è gente che mangia fuori C'è gente che mangia fuori Ogni tanto che è un bello Rigonfiato Si Questa è stufa Questa è stufa Questa è stufa Guardate che bella Di stanza Di questo posto Che non è completamente Abbandonato Perché In pratica c'è Un signore che fa la legna Che tiene come deposito Nei sotterranei la legna Anche gli attrezzi Quindi Diciamo che non è completamente Qua hanno murato questa porta Adesso proveremo Ad andare Di sopra Eh qua non è bellissimo Eh Cosa c'è? Ah questo è un vecchio frigo Guardate Il bagno Guarda di fianco Non so se ci fanno La porta è chiusa Anche questa è un'altra stanza Il bagno Ma ci abitano in queste case Tutte vuote Sì Anche queste tutte vuote Ecco 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 A me No a me non vale Però cosa immaginavo Ecco Riesco a capire questo discorso Di tutte Queste stanze comunicanti Diciamo che questo qua Secondo piano E' quello un po' messo peggio Non è messo benissimo qua Non è messo benissimo qua Non è messo benissimo qua I soliti indeficienti Guardate Complimenti Guardate che stanze Queste erano le suite In pratica Ma la vista Di questo posto E' spettacolare Gente Guardate che vista Che posto Pensate che quando era La vegetazione Era più curata Quindi doveva essere Veramente bello Questi corridoi Veramente Immensi Questa porta è chiusa Sì E' veramente grandissimo Questa struttura si collega pure con l'altra Qua di piano Ma mia Ma mia Di qua No No Di qua si sale Adesso proviamo A vedere qua Questi sono Guardate che stanze Che bello Questi erano le suite In pratica Erano le suite E' una Le stanze E' una Veramente Immenso Questo posto Vedete che Tutti i bagni Piastrellati qua Ah Qua ci abito Nessi Sì Sì Evidentemente Guardi Guardi Parlare piano Perché C'è gente mangiare fuori Le case Sono di fianco C'è l'ufficio No Non c'è scritto niente Guardate qua Questo non so cos'era Questo Oh Che spettacolo Questo l'ho visto già La terrazza Quindi anche questo è tutto abbandonato Anche qua Questa è un'altra stanza Questa è un'altra stanza La soffitta questa Questa è un'altra stanza Mamma mia Molto Sicuro Non è molto sicuro Non sa che meglio Scendiamo Scendiamo Di sotto di davanti Veramente grande questo posto E' stato costruito nel dopoguerra Questa è un'altra stanza E qui è comunicante anche Quell'altro edificio Che però Non so Penso che non ci sia niente Sì 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 Sotto l'altra stanza Sotto l'altra stanza Sotto l'altra stanza Sotto l'altra stanza Sta arrivando Un contadino Perché sento l'umore Del trattore Eh sì Questo è un vecchio cammino Eh sì È un labirinto alla fine qua di fianco no e quasi scende proviamo c'è qualche bagno guardate qua e quasi sale fuori si va nell'altra definizione guardate qua c'è una vacantaia adesso c'è qualcuno qua cercare di uscire senza farci vedere non c'è nulla qua non c'è nulla qua non c'è nulla qua non c'è nulla qua